Cocktail elaborati, ricette inedite e presentazioni artistiche. È stato un successo il primo concorso interregionale per barman professionisti organizzato dall'Associazione Barman Italiana. Mercoledì scorso a Villa Bosco Grande di Palermo, 39 professionisti provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania si sono sfidati davanti ai giudici. L'intera giornata è stata organizzata dall'Oliver Winehouse, dallo staff di Abbey Professional e da oltre 20 sponsor che hanno contribuito all'organizzazione della competizione, mettendo a disposizione i loro prodotti. Ha vinto Antonino Di Causi col suo cocktail a base di birra Donna di Coppe, precedendo Carmelo Gambino e Antonio Barbalà. Tutti e tre sono di Palermo e a maggio andranno a Roma per disputare la finale del concorso nazionale insieme agli altri sei vincitori delle competizioni che si sono tenute nel nord e nel centro Italia.